eccoci qua oggi alla scoperta della rock della trincera sperduta e selvaggia c'è pochissimo avvicinamento il sentierino è ben curato e andiamo a vedere un po che cosa ci aspetta eccoci qua sotto l'abbiamo trovata andiamo a vedere dove l'attacco saluto per i fans ciao youtube ecco l'attacco via gnakulain olè ok abbiamo fatto il primo tiro spittato veramente largo ricopriamo alex andiamo su io non l'ho trovato così facile poli alex che esce bravissimo e diciamo che passaggio veramente non so come l'ho fatto da sotto mi sembrava di essere un camelo ubriaco non so se l'ho fatto bene l'ho fatto male l'importante che ne sono uscito che non sapevo comunque uscirla è lì sì qui è molto strappiombante ma è tutta scenografia qua corda ok abbiamo quasi il secondo tiro il grado ci sta non è regalato e io adesso qua vedo la sosta penso che sia questa qui qua sotto c'è Ale da qualche parte grande è stata veramente tosta te l'ho detto che qua i gradi per me non li regalano eh gli altri sono bravi ok Ale dammi corda vai ok okay oh 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 Bravo Ok 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 Come va? Eh Bravo Tiro Adesso non capivo un cazzo Ah Jackson? Che cazzo potevo capirne io? Eh che devi fare? Ci vorrebbero i walkie talkie Ma non so Secondo me avevo sbagliato Perché vedemi che Eh ma lo split era di qua Quindi ti portava ad andare dentro Comunque Siamo vivi Sì 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 E vai Aspetta che mi longio Che sostona madonna Wow Wow Uh Che bello Che bello Che bello che bello Si vede casa mia Si vede il Musinè San Giorgio Rubata Che bello Che bello Che bello Bella E là i nostri zaini? Laggiù I nostri zaini Guarda quanto siamo saliti Qua Alex Alle prese con l'ultimo tiro Dai e dai e dai e Cattivo Grande Bravo Prima Come dite la sei incasinata Ah sai E' perchè mi sono Incuneato nella spaccatura Non lo so Ho fatto Un passo un po' da placchista Pensa a te con le scalpe aperte pure scali Con le scalpe aperte scali Io Eh Grande Alex Grande Gixio Grande E se l'hai portato a casa Guarda qua Da dove cazzo siamo saliti Allora E' stata bellissima Bella via E Torneremo Andremo all'Alpe del Capitano Che c'è un bel rifugio Dove c'è il gestore Che ci spiegherà Tutti i gradi e tutte le vie Perchè qui è pieno di vie da fare E torneremo perchè ci è piaciuto veramente tanto Molto bello Molto bello Molto bello Grande Agex Ciao a tutti Ciao